... per colombanese e 21,747 per la barina l'intero e benvenuto. 21,482 il tempo di colombanese, 21,441 per Pimmatilde e 21,506 per Niboli. 21,441 il tempo da battere. All'arrivo 20,708 per Peretti-Glavia e 21,379 per Pionda-Giorgia. E' già tenuto il posto. E' già tenuto il posto. a 2621 per liceferea 2621 e 27 per l'applato partite, riporto da battere l'atleta di casa liceferea 2621 vediamo il tempo 20 183 per lorini alessia 20 183 ed è il miglior tempo 22 5 8 per l'attleta di casa liceferea 2621 e il miglior tempo 22 8 per lorini alessia 20 183 ed è il miglior tempo 19 800 per la bimedista e il 19 896 per la russa e l'era